Anche i ricchi piangono, c'è la crisi, c'è la crisi, lo dicono tutti, c'è la crisi. Che cos'è la crisi? Te lo dico io che cos'è la crisi, quella cosa per cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, questa è la crisi. Per noi poveracci si è fatta veramente dura. Prima ci si è messa la Spagna qua che ha chiuso i cordoni della borsa, pare che l'oro delle Americhe cominci a scarseggiare. Ai ai, poveri banchieri genovesi, poi ci si è messa pure la Francia a farci la guerra, ci vuole fregare la Corsica. Ah beh, ma Genova ce l'ha fatta a fermare i francesi, soltanto che la guerra ha riempito la città di poveracci, di malati, di rifugiati, molto più di prima. Ah beh, ma Genova ha istituito l'ufficio dei poveri. Eh certo, perché qui la povertà è stata sempre un problema, soprattutto per i più ricchi, e bisognava inventarsi qualcosa per mettere un freno alla delinquenza. Ma ora non sanno più da che parte farsi, non sanno più che pesci pigliare. E con questa storia della crisi anche la beneficenza si è ridotta all'osso. Ma la signora Bracelli, Virginia, sì, sempre lei, adesso se ne è inventata un'altra delle sue, se ne è inventata le cento dame, nobile donne genovesi, che se ne vanno in giro per i quartieri di Genova a soccorrere i malati. Nobile donne, eh? Creano scuole per i bambini, insegnano un mestiere ai ragazzi e accudiscono questi poveri. Ci ha messo del suo, la Virginia, ci ha messo dei suoi soldoni e ha chiesto alle sue colleghe di fare altrettanto. Beh, finché dura, perché pare che i signori maricini non siano molto felici della cosa, con la crisi che c'è. E allora, signori miei, anche i ricchi piangono, c'è proprio la crisi, c'è la crisi! Grazie! Applaudissements Se vogliamo dimenticare gli minori dalle chiese, dalle strade, dalle piacce con gli amici, e i bisogni e gli svilamenti che c'erano e ci attestano, non ci basta i latini, qualche uomo vivoso, ma dobbiamo ogni povero cercare per conoscere di cosa veramente ha bisogno. Che si può fare se non rimaniamo a guardare, se siamo disposti a portare l'amore che cambia non solo la vita, ma anche il cuore. Che si può fare se siamo disposti a vestire, il tempo e il denaro che abbiamo per dare a queste tesore, a una vita migliore. Che si può fare se non rimaniamo a guardare, se siamo disposti a portare l'amore che cambia non solo la vita, che cambia non solo la vita, ma anche il denaro che cambia non solo la vita, ma anche il denaro che cambia non solo la vita, Che si può fare se non rimaniamo a guardare, se siamo disposti a portare l'amore. Che cambia non solo la vita che cambia non solo la vita, ma anche il cuore che si può fare. Che si può fare se siamo disposti a vestire, il tempo e il denaro che abbiamo per dare a queste persone, a una vita migliore. Che si può fare se non rimaniamo a guardare, se siamo disposti a portare, che cambia non solo la vita che cambia non solo la vita, ma anche il denaro che cambia non solo la vita, che cambia non solo la vita, ma anche il cuore che si può fare se siamo disposti a vestire, il tempo e il denaro che abbiamo per dare a queste persone, a una vita migliore. Eccolo qua! Eccolo qua! Che vi dicevo? Signora Bracelli! Signor Magistrato! Signora Bracelli, va bene l'elemosina, ma adesso stiamo veramente esagerando. Esagerando! Perché? Signora Bracelli, è pazienza che lei impieghi i suoi averi per mandare a scuola questi mocciosi che se ne stanno per le strade a fare monellerie. Dico pazienza se il signor Centurione, suo padre, non sarà per niente entusiasta della cosa. E dico ancora pazienza se lei abbia chiesto donazioni a tante gentildonne dal cuore tenero per soccorrere le miserie di tutti i poveri di tutti i quartieri della città. Ma adesso stiamo veramente esagerando. Ancora non capisco. Troppi soldi! Troppi soldi! E qui non si parla più di elemosina. Queste signore stanno impiegando troppi soldi. Troppi soldi che vanno impiegati in altre faccende. E quali altre faccende sono più importanti di questa? Signor Magistrato, voi volete eliminare l'accattonaggio e la delinquenza. E questo è giusto. Ma forse il modo in cui lo si fa non raggiunge l'obiettivo. bisogna investire soldi, anzi più soldi, per dare un'alternativa di vita a queste persone, soprattutto ai veri poveri e non a quelli che lo fanno di mestiere. Mia cara, dolce e romantica, signora Virginia. Lei vorrebbe mandare a scuola tutti i bambini, dare assistenza a tutti i malati e magari anche un'occupazione a tutti i bighelloni. Ma certo. Una società così non può esistere. Signora Braccelli, un'elemosia non la rifiuterebbe nessuno. Invece lei vuole stravolgere la vita sociale. E poi siamo in tempo di crisi. La Spagna pretende di riscuotere i suoi debiti. Bisogna far girare l'economia. Bisogna far girare il denaro. Comprare. Vendere. Investire in case. Navi per il commercio. Affari. Affari. Capisce? No, no non capisco. Lei vorrebbe che io investissi i miei soldi per fare altri soldi. L'ho già fatto. E con quei soldi? Altri soldi. E altri soldi. E altri soldi. Altri soldi ancora. Alla fine morirò. E cosa avrò lasciato i miei figli e i miei nipoti? Tanti soldi. E loro cosa faranno con questi soldi? Altri soldi. E altri soldi. Altri soldi ancora. Alla fine spariranno anche loro. E cosa avranno lasciato? Soltanto soldi. Non pensa che bisognerebbe lasciare qualcosa di meglio? E certo. Adesso la nostra signora ci viene anche a dare lezioni di economia. Quello che manda avanti il mondo è il denaro, le banche, gli investimenti. Ma il vero investimento è quello che non perderemo mai. Quello che ci ritroveremo anche dopo la morte. Le banche non dureranno per sempre gli stessi soldi. Noi non li useremo per sempre. E' nella banca del cielo. E' lì che c'è un tesoro che né i ladri possono rubare e né la crisi può far sparire. E' lì, lì che abbiamo messo i soldi per i poveri. Ed è l'unico investimento che non perderemo mai. Signora Bracelli, lei sta mettendo nella testa di queste signore delle idee strane. E i signori mariti qui presenti non sono per niente contenti di questo. E rischiamo di perdere anche il loro contributo per l'ufficio dei poveri. E in questi tempi difficili non possiamo esagerare. Dobbiamo accontentarci. Lo dico anche a voi, signori Romellini. Non continuate a stravolgere la quiete nobiliare seguendo le idee di questa sognatrice. E' già sufficiente quello che facciamo noi con l'ufficio dei poveri. Cari signori, non riponete la vostra speranza nell'instabilità della ricchezza, ma in Dio che ci provvede ogni cosa. C'è un signore che sta sopra di noi tutti e che non mancherà di ricompensarvi con il centuplo per quello che fate per i suoi figli poveri. Se la serenissima Genova si farà carico di quest'opera così nobile e santa, Dio la benedirà. Adesso basta! Ritornate a casa. 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 Virginia, com'è duro il cuore dell'uomo Gianfrancesco, non crucciarti le opere di Dio trovano sempre opposizione ma il vero nemico non è mai l'uomo certo, senza l'aiuto delle cento dame quello che abbiamo creato non può reggersi hai ragione Giovanna ma Dio ci ha sicuramente riservato un destino diverso confidiamo in Lui e non negli uomini anche se gli uomini vengono meno, Dio no e alla fine anche loro dovranno sottomettersi al volere di Dio sapete che vi dico? quasi quasi ci vado anch'io eh sì, perché la Virginia ne ha fatta un'altra delle sue avete presente quel palazzo bellissimo, davvero i nobili? il palazzo dove ha vissuto con la suocera, con il marito e con le figlie? beh, adesso che è rimasta la sola che ha fatto? ha riempito il palazzo di Strazzone Strazzone, Strazzone, Strazzone eh, non voglio dire di peggio eh, per non offendere le orecchie di loro signori ha cominciato con una e poi, sai com'è? come le ciliegie una, tira l'altra dell'estrazione come le ciliegie in un palazzo da nobili e poi dicono che qualcuno si stranisce eh, prima una poi due poi tre continuate voi fino a quaranta e si arriva alla quarantunesima perché arriverà alla quarantunesima tutte le strazioni di Genova vanno a bussare alla sua porta eh, non è che si vuole fermare la Virginia no, che scherzi allora, sapete che ha fatto? ha affittato una casa più grande pare fosse un convento e chi lo paga? lo convento e chi le mantiene tutte ste strazioni zitelle? la provvidenza dice lei beata lei comunque questo convento è vuoto è grande però non è che abbia proprio un bel nome Monte Calvario ma che è un nome questo? pare fosse il posto dove hanno crocifisso il Signore chissà non facciano fare la stessa fine anche a Virginia però attenzione eh lei lì ci porta tutte le sue figlie così le chiama evidentemente le due figlie avute da Gasparino non le bastavano lei come figlie vuole avere tante strazioni e che le farà fare a ste strazioni zitelle? mica le vorrà maritare tutte e chi se le prende quelle? quelle insomma avete capito no? però lei insegna loro a cucir a regamare a prepararsi a sposarsi ah dimenticavo le insegna anche a pregare e non è che le altre strazioni di Genova smettano di correre dalla mamma Virginia anzi sapete che vi dico? quasi quasi ci vado anch'io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Il giorno in cui le palle salutano il Signore, Il giorno in cui è poco il regno e viene, passa inosservata la strana processione di nonne dirette a Monte Calvario. Andiamo insieme a Monte Calvario, rifugio che il Signore ha preparato per noi, andiamo insieme a Monte Calvario, la nuova è la forza per il comitare. Lasciata la sua casa, Virginia mi ci impegna, quanto preziosa è la nostra vita. Ai piedi della croce, Maria lo incontriamo, che ci mostra l'amore di suo figlio. Andiamo insieme a Monte Calvario, rifugio che il Signore ha preparato per noi, andiamo insieme a Monte Calvario. la nuova è la forza per ricominciare. e le giovanze, la nuova è la forza per noi, che in questo neopio rifugio trova ieri. non è proprio a me, non è proprio a me, che per rego i figli, e a cui da ora è la forza per noi, andiamo insieme a Monte Calvario, rifugio che il Signore ha preparato per noi, e andiamo insieme a Monte Calvario, la nuova è la forza per ricominciare. bounced csavarò allora i totilietà per noi. Non è proprio a me, Dunana全けれ o davvero per noi, Allora, quest'anno e alle anni. Giang, c'è chi? Exerci in quindi a chi?